Il Salento, con le sue bellezze e la sua storia, negli ultimi anni ha subito un notevole incremento turistico. Ato Lecce 1, con il progetto EcoAlberghi, ha l'obiettivo di analizzare l'impatto ambientale del settore alberghiero. Risparmiare, recuperare, riciclare, ridurre, riusare. È il soggiorno a 5R del progetto EcoAlberghi. Ogni struttura dovrebbe adottare le linee e guida per contribuire alla riduzione dei rifiuti indifferenziati, facendo crescere il dato della raccolta differenziata. Campagna di sensibilizzazione promossa dal consorzio Ato Lecce 1. Siamo con Rossella del Caffè Pub Bar al Castello, un luogo qui nel cuore di Acaia. Siamo ad Acaia, in pieno luglio, piena estate, luce bellissima e frutta fresca, pronti per un cocktail pomeridiano, quasi d'aperitivo, fresco ed estivo, a base di frutta salentina. Vero? Tutto salento? Assolutamente sì, i prodotti della nostra terra dobbiamo portarli avanti, sono sicuramente una garanzia. Ovviamente ci sono alcuni frutti che non possiamo trovare qui da noi, ma insomma, integriamo, integriamo e comunque privilegiamo sempre i nostri prodotti. Prepariamo questo cocktail, diamo gli ingredienti, anguria, kiwi, banana, pesca, arancio, ovviamente si può alternare anche con altra frutta, questo come base, come base a cui si aggiungerà poi ovviamente zucchero di canna, un po' di succo, lime, prosecco, acqua tonica. Ok, a questo punto il primo procedimento consiste nel tagliare la frutta che abbiamo scelto per il nostro cocktail. Cominciamo dalla banana. Odio essere ripresa e fare delle foto, però mi piace di preparare dei cocktail, che è insomma è il mio lavoro e lo faccio con passione e allora mi sottopongo a questo incubo. Non lasciamo la buccia? Assolutamente. Che piena di vitamine? Guarda, se vuole io gliela lascio, normalmente ci sono dei clienti a cui può dar fastidio, però la lasciamo sicuramente. A questo punto abbiamo aggiunto anche il lime. Prosecco. Prosecco è un, dovrebbe essere un cocktail in alcolico, però per chi lo gradisce un po' di prosecco... Male non fa. Questo che gusto è? Questo è fashion fruit. A questo punto mischiamo il tutto. Mescoliamo il tutto. Abbiamo usato anguri, arancia, kiwi, pesca, banana, zucchero di canna. Ancora prima di mettere la frutta possiamo mettere zucchero di canna e lime, un po' di concentrato di lime. Aggiungiamo quindi la frutta a pezzi, un po' di ghiaccio tritato, succhi, in questo caso abbiamo usato succo d'ananas, fashion fruit e allunghiamo con acqua tonica. Il cocktail alla frutta, analcolico, è pronto. Del prosecco? Non abbiamo detto nulla. Un prosecco per chi non è proprio a stegno. Non abbiamo detto nulla.